al centro della difesa Gabriele Pellegrino restituendo sicuramente tanta qualità difensiva Luisi attenzione a Carlucci ce l'ha subito sul mancino la deviazione la traversa c'è stato e allora Pellegrino viene incontro Moscardelli ottima la sponda per Mazzone che allarga il gioco sulla sinistra la conclusione Saccucci ottima la combinazione del Luisi si allunga un po' troppo il pallone Ciriachi lo riconquista la la tribetta ancora con Federico Finucci uno contro uno con Pellegrino la conclusione Bernard mancino sul secondo palo ci arriva Tabarini che si accontenta della rimessa laterale già battuta Mazzone destro buca l'intervento Saccucci vantaggio Totti Uisi questa partita per l'ottetto di mister Carchella sbaglia la tribetta Moscardelli uno due rapidissimo del Luisi in gol Davide Moscardelli due a zero Zucchelli Orsini pallone che arriva a Masella che torna da Orsini Mancino e poi il tap in facile facile del numero 9 Finucci la riapre la la tribetta Edoardo Zeno Ciriachi tutto solo Carlucci che ha cambiato fascia la trivela cercare Moscardelli la rovesciata diventa un assist poi va al volo Carlucci palla Moscardelli ottimo lavoro per Mazzone che torna da Moscardelli sterza c'è la sul sinistro poi sul destro meraviglia di Davide Moscardelli doppietta e 3 a 1 il fischio dell'arbitro va a Moscardelli tocca a Saccucci calcio d'angolo Zeno a spazio Zeno lo prende calcia diventa un assist per Moscardelli 4 a 1 Totti Uisi tripletta per il 9 anticipo di Carlucci alimenta però Federico poi Masella zona tiro Murato non è finita Orsini Bernardini due volte grande doppio intervento del portiere parte Federico con il destro vicinissimo la gol del quattro Zucchelli potentissimo spacca la porta rientra in partita la la tribette 4 a 2 il Totti Uisi Zeno Mazzone ottimo il lungolinea pallone che torna Zeno che azione del Totti Uisi 5 a 2 tutto solo sulla sinistra Zarola contro Zeno Pasquetto Federico di punta la deviazione traversa poi Orsini sinistro potentissimo rete della la tribette 5 a 3 Finucci Federico Calcia Federico Traiettoria stranissima torna in partita la la tribette 5 a 4 Finucci Federico la finta di Federico ingresso in area cross salva la difesa poi la deviazione sulla conclusione di Orsini che non passa questo pallone anzi sì per via anche della caparbietà del compagno di squadra attenzione perché la pareggia la la tribette con questa conclusione di Finucci 5 a 5 Lo perde E allora Pasquetto Lascia Federico Ancora Pasquetto Fuori posizione Zeno Musci Ce l'ha sul destro Calcia Palo Triplice fischio del direttore di gara si dividono la posta in palio Totti Uisi alla tribette un pareggio che probabilmente sta meglio ai secondi Ancora Pasquetto Ascora Pasquetto Ascora Pasquetto Grazie a tutti.